cari amici anche quest'anno nella splendida cornice del villaggio di cala di rosa marina torneranno i martedì letterari di coca a cura dell'associazione odv angeli senza frontiere prestigiosi libri di ogni genere letterario anche per i più piccoli collaboratori saranno presentati dal 5 luglio al 3 settembre dagli stessi autori per un trionfo della cultura Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti